Buongiorno dal CETEMS, il promontorio ad alta pressione sull'Europa centrale è in graduale estensione verso sud favorendo il richiamo di correnti d'aria dalla Nord Africa che porteranno temperature al di sopra delle medie del periodo per oggi e per i prossimi giorni. Stamattina il cielo sull'Abruzzo si presenta soleggiato e tale rimarrà per il resto della giornata. Le temperature saranno in rialzo di 2 gradi rispetto a ieri con massimi che si attesteranno intorno ai 27-28 gradi. La ventilazione sarà di debole intensità a regime di brezza. Dal pomeriggio inizieremo a percepire l'arrivo di queste masse d'aria di stampo africano che caratterizzeranno anche i prossimi giorni. Domani avremo una giornata inizialmente soleggiata, poi dalla tarda mattina cominceranno a comparire nubi come uniformi sui rilievi, mentre nel pomeriggio sono attesi rovesce temporali sull'Alto Sangro e sulla Marsica. Le temperature saranno in ulteriore aumento e le massime toccheranno i 30 gradi. Dopo domani giovedì avremo una giornata simile a quella di domani con caldo, sole al mattino e annuvolamenti pomeridiani che porteranno sempre fenomeni temporaleschi sull'aria interna e soprattutto su Alto Sangro e Marsica. Per il meglio è tutto, la linea può tornare allo studio. Buona giornata! Grazie a tutti!